E sarà Fabri Fibra lunedì 9 luglio il primo artista ad esibirsi sul prestigioso palco di Piazza Loggia per il Brescia Summer Music. La rassegna musicale è organizzata da CPS con il patrocinio del Comune di Brescia. Seguiranno martedì 10 il rapper bresciano Fra Quintale, venerdì 13 Baustelle, sabato 14 uno dei due vincitori di Sanremo Fabrizio Moro, mercoledì 18 in Egrita e chiuderà Ermalmeta in Piazza Duomo sabato 8 settembre. I concerti si terranno anche in caso di maltempo ed è possibile acquistarli in prevendita sui circuiti Viva Ticket e Ticket One. Grazie. 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 Grazie.